E' cominciata questa mattina in Consiglio Comunale la discussione del bilancio 2014 sulla base dello schema approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 13 agosto. Si tratta del primo bilancio dopo l'approvazione definitiva del piano di riequilibrio finanziario da parte delle sezioni unite della Corte dei Conti. Dopo l'approvazione del piano di riequilibrio delle sezioni unite abbiamo avuto anche la soddisfazione del miglioramento del rating da parte della società Fitch che in qualche modo ha eliminato le prospettive da negative a stabili, ha tenuto conto dell'azione messa in campo dal Dellente, innanzitutto una questione legata a un piano di risanamento che ci vede in anticipo rispetto al piano decennale, dall'altra un'azione di rilancio delle attività per riservizio alla collettività. In apertura di seduta il consigliere Lettieri ha letto una richiesta di sospensione del dibattito sostenuta dalle opposizioni sulla base di considerazioni giuridiche e contabili. La proposta di sospensione, votata da Ricostruzione Democratica, PD, PDL, Nuovo Centrodestra, Sinistra in Movimento, Fratelli d'Italia, Liberi per il Sud, è stata respinta a maggioranza. Alla richiesta del conteggio del numero legale le opposizioni sono uscite dall'aula. L'assessore al bilancio Palma ha infine illustrato la relazione tecnica e gli elementi essenziali del documento di programmazione finanziaria 2014. Manutenzioni, welfare e ambiente sono i tre temi fondamentali al centro di questo bilancio. Abbiamo fortemente implementato le risorse per questi tre grandi temi. Abbiamo previsto forti investimenti sulle manutenzioni stradali, forti investimenti sul rifacimento delle facciate, agevolazioni da COSAP per il rifacimento delle facciate dei privati, che è un aspetto fondamentale. Abbiamo apposto per la prima volta risorse per i lavori in danno, quindi anticipiamo quando è inadempiente il privato, quando c'è un rischio e quindi interveniamo direttamente noi. Abbiamo raddoppiato i fondi sul patrimonio monumentale, quindi un grosso lavoro. Abbiamo rafforzato l'intervento stradale da 2 milioni e 9 a 5 milioni e 4, quindi un forte innesto di intervento sulle municipalità, sul territorio, per migliorare la qualità delle nostre strade, sia le arterie secondarie che quelle principali. Quindi un'azione forte. Abbiamo quasi raddoppiato i fondi per le manutenzioni stradali straordinarie, quindi grandi assi. Tenuto conto che poi tutto questo dobbiamo leggere con il grande progetto che sta partendo, quindi si interverrà sulla riqualificazione urbana, ci sono circa 100 milioni per la città, per il centro storico, quindi abbiamo l'area costiera che verrà rifatta, quindi abbiamo fino al 2014, tutto 2015, veramente grossi interventi di riqualificazione della città.